Volevamo il pasto in classe, non lo troviamo un momento educativo, non lo troviamo neanche un momento di svago come dovrebbe essere, quindi ci siamo battuti con la dirigenza scolastica per arrivare a trovare una soluzione dove poter tornare a una sorta di normalità pre-Covid. Sono 70 i nuovi banchi monoposto del MIUR arrivati all'Istituto Maggini di Monte San Savino, dove si potrà finalmente tornare a pranzare assieme a scuola. I nuovi banchi saranno infatti destinati alla mensa. Il servizio mensa sarà con una turnazione, quindi le prime, le seconde, le terze eccetera, a seconda della capienza ovviamente delle due zone di refettorio che sono state create ampliando quelle già disponibili. I bambini consumeranno appunto un pasto servito al tavolo dal personale della mensa nel giorno di rientro settimanale che sarà loro assegnato. Questa potrebbe essere una disposizione che garantirebbe il metro di distanza bocca a bocca ma una maggior socialità. Certo, questa sarebbe la soluzione ottimale. Dobbiamo verificarlo ovviamente con la gestione della mensa per una questione proprio di spazi per lo sporzionamento e capire se loro riescono così a lavorare. A Monte San Savino dunque non si mangerà in classe e non ci sarà alcuna monoporzione. Nessuna monoporzione ma mantenimento di un menù che sia il più possibile in linea con i desideri dei ragazzi, delle famiglie e i criteri diciamo di qualità di una mensa scolastica che è un momento didattico, di apprendimento in cui è opportuno che i bambini vengano invitati a sperimentare cibi diversi ma la monoporzione non è più un invitarli a sperimentare, diventa un obbligo quindi da evitare il più possibile. Un primo passo verso il ritorno alla normalità ovviamente nel rispetto di tutte le misure anticontagio. Ci sono già partiti gli scuolabus, ripartirà la mensa il 5 ottobre e poi con un grande impegno della dirigenza scolastica del comune ripartirà anche il prescuola.